oggi siamo a Gressonei giornata fantastica poca neve ma le piste sono tenute molto bene Luca sei in forma? Luca sei in forma? Sì, 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 sì. Comunque il pezzo più bello è stato il canalino via. Bene, proseguiamo il nostro giro ad Ressonei dalla parte opposta verso Alagna. Sì, sì, sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì.